Shocking Rai. Amadeus dice addio, passaggio al 9 confermato dopo incontro con i Vertici. Prima di descriverti i dettagli di questo incredibile travolgimento nel mondo della televisione italiana, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie per il tuo supporto. È giunto il momento dell'addio per Amadeus alla Rai, una decisione ufficializzata dopo un incontro con il direttore generale Giampaolo Rossi. La conferma arriva da una nota di agenzia, mettendo fine alle speculazioni degli ultimi giorni e alle anticipazioni fatte anche da Fiorello, che aveva già accennato al suo passaggio al 9 nella prossima stagione. Dopo un incontro tra Amadeus e i Vertici Rai, l'annuncio della sua partenza ha segnato la fine di una lunga collaborazione con il servizio pubblico. Il conduttore degli ultimi cinque festival di Sanremo ha deciso di lasciare l'azienda dopo la scadenza del suo contratto, aprendo così una nuova pagina nella sua carriera televisiva. Amadeus resterà legato alla Rai fino ad agosto, quando il suo contratto giungerà alla sua conclusione. Successivamente si unirà al 9, seguendo le orme di Fabio Fazio, che ha fatto lo stesso passaggio l'estate scorsa. Il suo ruolo nella rete Discovery non è ancora stato specificato, ma è probabile che sarà assegnato a una posizione di rilievo, anche nella conduzione di programmi. Fiorello ha fornito ulteriori dettagli sul futuro di Amadeus durante l'ultima puntata stagionale di Viva Rai 2, rivelando che il prossimo 10 maggio sarà ospite del programma insieme a Giovanotti, segnando così la sua ultima apparizione nella Rai. Per Amadeus questo rappresenta un altro addio alla Rai, simile a quello del 2006 quando scelse di passare a Mediaset per un breve periodo, prima di fare ritorno a Viale Mazzini dopo poco più di un anno. Le circostanze esatte del suo addio attuale non sono ancora chiare, ma diverse ricostruzioni indicano una possibile uscita burrascosa, con presunte pressioni da parte dei vertici che avrebbero influenzato le sue decisioni future.